Attenzione, interrompiamo questo programma per un gravissimo comunicato sullo staff. Se lo vedete in un negozio, chiamate la polizia. Se ne avete a casa, non toccatelo, scappate. Lo staff è un prodotto naturale, un mortale organismo vivente, che dà la suefazione e poi la morte. Può impadronirsi del vostro cervello e del vostro corpo. E nulla può fermarlo. Dunque, per prima cosa dirai alla radio che hai visto con i tuoi occhi persone divorate dallo staff. Quest'oggi l'America è in grave pericolo. Non dovete venderlo, è velenoso. Vestaf, siete stati avvertiti.